Invito il Presidente Nocella a presidere il Consiglio. Grazie a tutti. Il Presidente Nocella a presidere il Consiglio. 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 ma anche che i tuoi effetti in materia è il tuo bilancio che stai condotto tu fine tu, con i tecnici la risposta che ti ha detto si sente io ti penso di non scaricare i contenuti di altri ma oggi noi dobbiamo assumerci la responsabilità di quella di rappresentanti cui mai ci fanno tu hai deciso la storia e io ti ho fatto una domanda a me e io pretengo una risposta a me e mai vostri credo dare un bilancio di revisione del 2010 con una revisione di una partecipata del 2008 che non è la mano ancora docente o male di quella partecipata mentre abbiamo ricavizzato la storia piena e oggi abbiamo un bilancio di revisione a votare e c'è il bilancio di revisione a votare nel 2010 senza avere un bilancio del 2008 nel 2009 di quella partecipata è possibile è una domanda precisa che fai è possibile poterti potere approvare un bilancio di questo tipo ti prego e ti distrano il decilinario che se la c'è 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 la città una domanda se corre outra quindi dalla giusta collocazione del peccato, e io di questo sono te sono felice, e chiederei anche caro la prossima volta dei suoi tecnici, benissimo da me così, parliamo in termini tecnici, lei ha articolato la domanda in modo un po' faraggioso, non si capisce, allora lei mi ha detto di sì, punto, infatti l'articolo mi diceva anche, mi diceva che sono scolesive dalle situazioni oppure dalle cose delle, l'articolo 172 del testo 1, dice no, le risultate della lettera B, le risultate delle ricordi o ricordi in modalità delle ricordi di comunità di aziende speciali, consorsi, istruzioni, società di caviale, costruite per l'esercizio di servizio pubblici, ve la dichiaro per l'ultimo esercizio antecedente a questo in cui il viaggio si cresce, quindi questo lo, ce lo consente anche la normativa del testo unico 267, che dopo il libro ovviamente io lo regalerò anche così nelle prossime settimane ci possiamo incontrare, non è dico che così è poco male, è giusto che a preghi pari e conoscono ovviamente la finanza pubblica, a preghi quasi vanno sempre solo di agami, grazie.